Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo all'Assemblea cittadina del coordinamento della Federazione Nazionale Pensionati che si svolta oggi a Gela. Si è parlato dell'accordo governo-sindacati relativo agli aumenti pensionistici presente, tra gli altri, il segretario regionale della Federazione Alfio Giulio. Accordo governo-sindacati relativo agli aumenti pensionistici e le norme che regolano il pensionamento. Di questo e di altro ancora si è parlato oggi nell'ambito dell'Assemblea cittadina del coordinamento della Federazione Nazionale Pensionati. L'incontro si è svolto nei locali di via Generale Cascino a Gela. I lavori sono stati aperti dal coordinatore Orazio Ciascia. All'incontro erano presenti il segretario generale territoriale di Agrigento, Caltanissetta Eden, Salvatore Montalbano, ed il segretario regionale della Federazione Alfio Giulio. Credo che finalmente con questa intesa, accordo, chiamiamola come vogliamo, tra governo e organizzazioni sindacali, Cigelli e Ciseguilli, sul tema della Previdenza, finalmente inizia un percorso virtuoso che riguardia sia i pensionati sia i giovani. Perché il segnale e il senso di questo accordo è un accordo che include e non divide, come ai mesi è fatto in questi ultimi anni, dividendo i giovani e gli anziani, come se gli anziani togliessero il futuro ai giovani. Con questo accordo c'è dentro alcune risposte che vengono date ai pensionati, come per esempio la non-taxiare, che non è altro che la soglia di defiscalizzazione che riguarda i lavoratori attivi, così come i pensionati. C'è la quattordicesima mensilità che riguarderà circa 1.200.000 persone e molti di questi sono allocati nel nostro territorio, in Sicilia, nel meridione, dove il tasso di povertà è molto più alto, come per i giovani. Per esempio c'è la possibilità di ricongiungere i contributi a costo zero, cosa estremamente importante che aiuta per precostituirsi una pensione più equa e più giusta. Si può riscattare la laurea con costi molto inferiori rispetto a prima. Ecco, abbiamo incominciato a incidere su quella che era una riforma capestra, la cosiddetta riforma Fornero, che ha messo in ginocchio i pensionati e i futuri pensionanti. In ultimo il problema dell'APE, cioè la possibilità alle persone di andare in pensione prima dei famosi 66-67 anni, che dice la riforma Fornero. Chi ha alcuni anni di disoccupazione può accedere, ripeto, andando in pensione attraverso meccanismi che in questi giorni stanno definendo. Ecco, finalmente iniziamo un circuito virtuoso perché questa nostra terra, questo nostro territorio, sia siciliano sia nazionale, può uscire da questa condizione di crisi drammatica se il governo parla con le parti sociali. Il 28 luglio del 2010 la risoluzione ONU dichiara per la prima volta nella storia il diritto all'acqua, un diritto umano e fondamentale, sottolineando che l'acqua potabile e per uso igienico è un diritto di ogni uomo ed essenziale al pieno godimento della vita. Ogni individuo ha quindi diritto ad una sufficiente quantità d'acqua per bere, lavarsi, lavare i vestiti, cucinare, allo scopo di migliorare la qualità della vita e della salute. Lo dice il consigliere comunale di Polo Civico, Sandra Bennici, che plaude all'iniziativa dell'amministrazione municipale che concede delle agevolazioni tariffarie sul servizio idrico alle famiglie bisognose per due ordini di motivi, perché aiuta le fasce deboli e perché finalmente dà seguito ad una delibera di consiglio comunale. L'amministrazione, continua Bennici, dovrebbe avere a cuore le esigenze di tutta la città pretendendo almeno la potabilità dell'acqua. Siamo costretti a vivere disagidrici inconcepibili nel 2016 in una società civile. L'acqua non viene erogata regolarmente, determinando settimane con i rubinetti a secco, ma quelle rare volte che l'acqua scorre la troviamo torbida, marrone e maleodorante. Il consigliere comunale chiede al sindaco di intervenire verso chi deve garantire un servizio idrico efficiente. In questo modo tutta la città avrebbe un ritorno economico, non solo le fasce deboli, risparmiando sull'acquisto almeno delle numerose casse d'acqua utilizzate per uso personale e domestico, ricordando appunto che il diritto all'acqua è un diritto umano fondamentale. E adesso occupiamoci dell'incontro sulla donazione, una scelta che cambia la vita e che si è tenuto nell'aula magna del Liceo delle Scienze Umane Falcone Borsellino di Gela. La donazione è una scelta che cambia la vita, è il tema che è stato dibattuto nell'aula magna del Liceo delle Scienze Umane Falcone Borsellino di Gela su iniziativa delle associazioni Dono, Fidas, Adas, Admo e Adoces. Si è parlato di donazione di sangue, midollo osseo e cellule staminali da cordone ombelicale. L'idea che noi abbiamo voluto dare a questi ragazzi, sono giovanissimi, quest'oggi non sono ancora maggiorenni, gran parte di loro, è quello proprio di cercare di capire cosa vuol dire entrare a far parte nella società civile, cosa vuol dire diventare adulti. Diventare adulti non significa soltanto prendersi la patente per guidare la macchina, ma diventare adulti significa anche prendersi delle responsabilità. Un gesto di grande responsabilità è proprio quello della donazione del sangue. E quindi noi invitiamo tutti quanti, chiaramente in questo caso l'abbiamo fatto con i ragazzi giovani, noi lo invitiamo a tutta la cittadinanza, a coloro che ancora non sono accostati al gesto della donazione, di avvicinarsi al mondo della donazione del sangue, a capire, a toccare con mano cosa vuol dire il benessere che pervade ogni persona nel momento in cui si va a donare sangue. Il dono deve essere cultura, il dono deve essere un momento importante della vita di ognuno di noi, essere altruisti e mettersi a disposizione degli altri. E oggi il messaggio che abbiamo voluto far passare è questo, siamo nelle condizioni di compiere il miracolo della vita, cioè ognuno di noi, soprattutto per quanto riguarda quello che mi riguarda, il midollo osseo, ha la possibilità, perché magari è l'unico donatore compatibile al mondo con un malato in attesa di trapianto, l'unica possibilità che diamo a questo paziente è di riappropriarsi della propria vita. Lo possiamo fare solamente con un semplice prelevo di sangue, essere inseriti in un registro mondiale dei donatori di midollo osseo e aspettare che il Bundio ci chiami, perché è un gesto straordinario. Nel corso dell'incontro lo sono intervenuti tra gli altri il dirigente scolastico Giochino Pelitteri e Rita Salvo, presidente FIDAPA. Abbiamo partecipato insieme ai ragazzi del classico alla conferenza che ci ha trasmesso moltissime cose che ci possono aiutare, aiutando gli altri, facendo la donazione del sangue e del midollo osseo. Quindi un invito che puoi rivolgere ai tuoi compagni di scuola, ma anche agli altri istituti, a donare il sangue e donare il midollo osseo? Sì, giustamente per aiutare gli altri. Aiutare gli altri è una cosa bellissima. Se noi possiamo farlo con un minimo, che sarebbe la donazione, perché no? In occasione della commemorazione del commerciante gelese Gietano Giordano, ucciso dalla mafia il 10 novembre del 1992 per essersi ribellato alla racket delle estorsioni, giovedì 10 novembre, nei locali dell'associazione anti-racket di Gela, che porta il suo nome, si darà un momento commemorativo promosso dal presidente Renzo Caponetti. Saranno presenti Tano Grasso e le più alte autorità civili e militari. È previsto per mercoledì 16 novembre alle 11 al Comune di Gela, convocato dal presidente del Consiglio Comunale Alessandra Asia, il gruppo di lavoro Porto di Gela. Saranno presenti la protezione civile regionale, il responsabile unico del procedimento Gietano Calafato, il comandante della Guardia Costiera Pietro Carusia, il comandante del gruppo piloti Giovanni Canale e tutti i rappresentanti del gruppo di lavoro Porto di Gela. L'incontro servirà per verificare lo stato dell'iter per l'avvio dei lavori di ripristino della funzionalità della struttura portuale, dopo la firma dell'intesa tra Regione e Sicilia e Eni Comune di Gela, per il finanziamento di 6 milioni di euro per il dragaggio dell'intero specchio d'acqua del porto con l'allungamento del braccio di Ponente. Breve pellegrinaggio di una delegazione dell'Aias di Gela verso la Porta Santa aperta lo scorso 6 gennaio con una solenne cerimonia in occasione del Giubileo della Misericordia. Si è svolto oggi, è stato il culmine della giornata di preghiera che è cominciata con la celebrazione della messa nella Chiesa Sant'Agostino. La delegazione di pazienti Aias è stata accompagnata dal presidente Anna Maria Longo e dal direttivo con parte dell'equip medico-sanitaria. Dollino ci ha fatto questo regalo facendo riunire tutti i ragazzi dell'Aias ad attraversare la Porta Santa. Dal momento che ha saputo che non siamo andati a Roma, lui ha voluto che noi attraversassimo pure la Porta Santa come se fossimo andati a Roma. È una cosa molto bella, un gesto molto bello da parte di Dollino e una cosa bella per i ragazzi che non hanno mai attraversato la Porta Santa. Questo cammino giubilare al quale partecipano varie situazioni cittadine segna la preparazione dell'apertura del centro di spiritualità e del dormitorio per le famiglie disagiate e gelesi presso il Convento di Sant'Agostino che si svolgerà domenica 13 novembre alle 10.30 con la celebrazione eucaristica che sarà preseduta dal Vescovo di Piazzamerina, Monsignor Rosario Gisana. Quel giorno si chiuderà la Porta Santa nella Casa della Misericordia concludendo l'anno santo così come stabilito da Papa Francesco. Viviamo questo momento giubilare insieme ai nostri fratelli disabili come momento di gioia perché loro sono coloro che ci conducono anche al Signore guardando loro, toccando la loro carne, noi tocchiamo la carne di Gesù. Abbiamo voluto insieme all'Aias fare questo momento a conclusione del giubileo per dare questa spinta anche perché sappiamo bene che le porte non verranno chiuse perché il Papa vuole che si continui questo giubileo attraverso quello che è l'assistenza ai poveri e agli ammalati. Una discarica abusiva nei pressi di contrada Fiaccavento lungo la strada che costeggia Ponte Olivo a ridosso della zona industriale. In quell'area si verificano puntualmente fenomeni incontrollati di abbandono di rifiuti. La denuncia è del presidente di destra in movimento Francesco Minardi. La trazzera e il canale sono invasi da rifiuti solidi urbani di ogni tipo materassi, sanitari, plastica, sacchi di cemento, rifiuti che col vento e la pioggia dirupano all'interno del canale. Destra in movimento invita il primo cittadino, Domenico Messinese, quale primo responsabile della salute dei cittadini ed il consorzio di bonifica, qualora rientrasse nelle loro competenze, ad attivarsi immediatamente rimuovendo i rifiuti e bonificando le zone limitrofe al fine di scongiurare il pericolo che potrebbe derivare alle campagne circostanti adibiti a diverse culture e all'ambiente marino della costa. Minardi sottolinea come sia necessario attivare maggiori controlli del territorio anche nelle zone periferiche per evitare il verificarsi di questi episodi spiacevoli che dimostrano ancora una volta la mancanza di rispetto del cittadino per la cosa pubblica. Cambiamo argomento e ora occupiamoci del nuovo anno accademico dell'Uni3. Inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Uni3 di Gela presieduta da Angela Scaglione Altamore si è svolta sabato scorso nell'auditorium del liceo classico Eschilo diretto da Giochino Pellitteri. L'Uni3 è da circa 20 anni che svolge un importante ruolo nella nostra città e dà la possibilità agli iscritti di ritornare ad essere protagonisti nella società una società in continuo cambiamento per cui è necessario fornire loro gli strumenti per leggere criticamente la realtà. E quindi offriamo un'offerta molto variegata e ricca che appunto consentirà loro di aggiornarsi, approfondire argomenti, conoscerne di nuovi e per appunto raggiungere quelli che sono i nobili obiettivi fissati nello statuto dell'Uni3. Quest'anno l'Uni3 ha avviato numerosi corsi che partiranno da oggi. Oltre ai soliti insegnamenti, le lingue, storia e filosofia, scienze, informatica eccetera abbiamo per la prima volta un corso di giornalismo e comunicazione poi un corso di medicina. Durante l'anno si alterneranno i vari specialisti e daranno informazioni, faranno prevenzione perché è molto richiesta dagli stessi iscritti. L'iniziativa di quest'anno è aperta anche agli studenti. Quest'anno grazie alla disponibilità di docenti e dirigenti delle scuole superiori avremo la possibilità di incontrare studenti che frequenteranno durante il corso in particolare il corso di giornalismo e comunicazione. Appuntamento con la trasmissione 10 domande 10 questa sera alle 21. Nostro ospite sarà il dirigente medico dell'unità di urologia dell'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela Nuccio Condorelli. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno posate in plastica, sottovasi, bacinelli, materiali in plastica non di imballaggio giocattoli, elettrici e nonna, cassette audio e video floppy disk, cd, dvd, spugne sintetiche e stracci sporti cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici sacchetti aspirapolperi, mozzicone di sigaretta è assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale, come ogni anno i volontari dell'Associazione Diabetici Eschilo, preseduta da Giuseppe Curatolo celebrano sul nostro territorio la giornata mondiale del diabete. Lo scopo dell'iniziativa è quello di avvicinare più persone possibili allo screening che quest'anno si svolgerà il 13 novembre nello spazio antistante la parrocchia San Giovanni Evangelista dalle 9 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 19 e 30. Medici e volontari si succederanno nel corso della giornata nello stand adeguatamente attrezzato e saranno a disposizione di quanti vorranno conoscere meglio la patologia e i rischi connessi per prevenirne l'insorgenza o le complicanze qualora non diabetici. Domani alle 10 e 30 presso l'auditorium Virgilio Argento dal presso Paolo Emiliani Giudici di Gela saranno consegnati i libri in accomodato d'uso per le classi prime della scuola media alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. I genitori devono presentarsi muniti di documento di identità valido. Lo comunica il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo. Adesso apriamo la pagina dello sport. Calcio torna il sorriso in casa Gela i biancazzurri battono la capolista Rende e riassaporano il gusto della vittoria. Ritorna il sorriso in casa Gela grazie alla meritata vittoria per 2-0 sulla capolista Rende i calabresi perdono la vetta della classifica. Adesso comandano i G Virtus e Sicula Leonzio. Uno sgambetto quello di ieri firmato da golla di Corrado Montalbano e di Tony Scerra che ha permesso alla formazione biancazzurra di ritornare alla vittoria dinanzi al pubblico del Vincenzo Vresti e di spazzare via i musi lunghi dopo la coccente sconfitta rimediata la settimana scorsa in casa della frattese. Una gran prova quella messa in campo dai ragazzi di Mister Infantino. Con Anassim Panchina a causa della febbre che l'ha tenuto fuori per tutta la settimana il tecnico di Cammerata opta per un 3-4-3 con Evola nuovamente in difesa e il tridente formato da Montalbano Bonanno e Kosovan. Gela subito il rabbioso sin dalle battute iniziali che prova a mettere pressione ai calabri. Alla diciassettesimo i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un tocco di braccio di Boscaglia su calcio piazzato di Evola ma l'arbitro propende per l'involontanità. Al ventesimo rende pericoloso con Serleti che tenta di sorprendere Saitta con un tiro dalla distanza ma il portiere gelese sventa in angolo. Al ventisettesimo il Gela passa in vantaggio Kosovan si invola sulla fascia sinistra servendo sul primo palo un pallone invitante per Montalbano bravo a girare subito in porta. 1-0 il Presti esplode di gioia per il meritato vantaggio. Al trentunesimo i gelesi potrebbero raddoppiare ma la conclusione di destro di Bulades è deviata in angolo. Al quarantaduesimo clamorosa palla gol per gli ospiti con il colpo di testa ravvicinato di Serleti che manda clamorosamente fuori. Pericolo scampato per Bonafini e compagni che chiudono in avanti il primo tempo con una conclusione di testa di Montalbano alta sulla traversa. Nella ripresa dopo tre minuti è ancora il Gela ad avere una palla gol con Chidichimo che tenta senza fortuna la deviazione al volo da buona posizione. Padrone di casa che perdono per infortunio il giovane Romito Bulades autore di una grande prestazione al suo posto entra a Serra. Il mio entrato strappa gli applausi del pubblico grazie ad un bel tocco quarantaduesimo a scavalcare il portiere 2-0 e rende alle corde che a quel punto tenta in vano gli ultimi assalti alla porta del Gela ma il muro difensivo eretto da Gambuzza Evola Campanaro è inespugnabile. Dopo sei minuti di recupero l'arbitro Bonassoli di Bergamo decreta la fine del match e la vittoria del Gela sui calabri della Rende. Scacco matto possiamo dire all'ex capolista. E a fine partita Flavio Centamore ha raccolto le impressioni dei due allenatori. Sentiamole. Sono molto molto soddisfatto perché quando dai dei messaggi e vengono recepiti è grande soddisfazione. credo che il Gela ha queste caratteristiche stiamo assorbendo molto il campo perché credo che questo campo è traditore. Credo che noi lavorandoci sopra credo che può diventare un'arma importante perché secondo tempo le squadre che lavorano su questo sintetico sicuramente non sono abituati e faticano però sono contento per i ragazzi perché veniamo da una settimana un po' particolare sono contento per la società li ringrazio per la vicinanza che hanno avuto nei miei confronti però credo che noi siamo lavoratori credo che i momenti difficili ne abbiamo passati io dicevo un collega tuo questa settimana io vengo da io sono nato nelle difficoltà e le difficoltà ti rafforzano sai i momenti come attraversarli e credo che questo è stato questa questa conoscenza delle difficoltà e queste conoscenze dei momenti credo che è stata un'arma importante però ad oggi c'è stato un atteggiamento molto propositivo siamo tornati a quelle che eravamo un mese fa abbiamo assorbito come dicevo questo sintetico e sperando sperando di di migliorare ancora perché credo che ancora c'è ci sono margini di miglioramento però ora pensiamo a a Roccella e testa bassa con grande umiltà come siamo partiti siamo ritornati quelli di di Pomigliano quelli che con con quello spirito di difficoltà siamo partiti e con questo spirito sicuramente qualche gap può essere può essere può essere limitata siamo contenti siamo contenti faccio i complimenti ai miei ragazzi perché meritavano questa soddisfazione davanti a un pubblico eravamo avevamo promesso ai nostri tifosi che vedevano un Gela molto aggressivo molto veloce un Gela propositivo questo è stato e siamo contenti siamo contenti Gela è una squadra con determinate caratteristiche molto propositiva che attacca con tanti giocatori quindi è possibile che possa incorrere in giornate sorte dove gli avversari ti possano far gol soprattutto a Fratta che è una squadra mi avviso molto forte che non non merita la classifica che ha per cui si Gela ce l'aspettavamo così ci aspettavamo speravamo comunque di riuscire a fare lo stesso risultato perché comunque soprattutto nel primo tempo penso che abbiamo avuto delle situazioni importanti ed è andata male invece al Teranova i Geralossi nel campionato di eccellenza in vantaggio di un gol sono stati raggiunti e sorpassati dall'Alcamo risultato finale 2 a 1 per i Trapanesi per la formazione allenata da Natale Serafino si tratta della seconda sconfitta di fila appuntamento col cinema all'antitoto di Gela in proiezione il film a lettere da Berlino sono due gli orari della programmazione 19.30 e 21.30 ed è scattata all'antitoto la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017 il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre l'abbonamento intero costa 70 euro 55 euro ridotto per i giovani per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici 338-7143-293 330-225-442 e 0933-82-2707 e si apre il sipario al teatro Eschilo di Gela con la nuova stagione teatrale domani alle 21.15 solo per gli abbonati del turno A in scena Io odio Amleto con Gabriel Garco e Ugo Pagliai prossimo appuntamento sabato 19 novembre in scena il grande Gerswin con Raimondo Todaro e Francesca Tocca lo spettacolo andrà in scena alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per il turno A per informazioni e prenotazioni rivolgersi al botteghino del teatro tutti i giorni dalle 17 alle 20 oppure chiamare il 345-5880 580 abbiamo un concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni a